Amici e amici di Team Vision, ancora una volta, buongiorno e benvenuti allo stadio Ricci di Sassuolo. Questo è Sassuolo, Pomigliano, non a giornata ultima di andata di Serie A femminile, Team. Qui brava Filgens, poi Jane con la testa mette in movimento, Monte Rubiano. Guarda il centro dell'area, il cross è sul primo palo, arriva il vantaggio del Sassuolo, 1-0. Al ventiquattresimo passa la squadra di Piovani, 1-0 Sassuolo, Evdocchia, Popadinova, primo gol in campionato per lei. Brava Jane a mettere in movimento, Monte Rubiano, proprio Popadinova, un'azione simile qualche minuto fa, era andata al cross. Palla fantastica di Monte Rubiano, sul primo palo, Evdocchia, Popadinova. Pronta ad andare, Ferrari alla battuta del corner, calcio d'angolo con il destro, uscire liberato, non è finita, c'è questa possibilità al limite dell'area destro! Di Valentina, Gallazzi, che si iscrive così alla corsa, al gol della domenica e pareggia per il Pomigliano. Il cross, l'angolo di Ferrari, o destro, ribattuto, palla che rimbalza, collo pieno, calcola benissimo il rimbalzo, Valentina Gallazzi. Palla sulla secondo palo, il colpo di testa, il salvataggio decisivo di Fifi Jane, che è sulla linea del ribaltare la partita. Altro calcio d'angolo, pericolosissimo, l'undici di Sanchez. Altro calcio d'angolo, pagatissima di Loni, strepitoso, palla che rimane lì e alla fine non c'è il gol, si rimane 1-1, incredibile! Colpo di testa di Tati, con il palmo della mano strepitosa Loni, poi sulla linea Filangeri. Non c'è spazio, tiene, sciabica, cerca compagna, arriva come un treno. Filangeri arriva il cross, Cleland! Ascensore della partita, avanti Sassuolo, pareggia il Pomigliano, avanza ancora di un piano, la squadra di Piovani, 2-1, altro colpo di testa. Popadinova prima, Cleland dopo, 2-1 per il Sassuolo. Ha cambiato il tandem offensivo, fiducia a Popadinova del primo minuto, ripagata con un gol. Fiducia a Lana Cleland nel secondo tempo. È stata Orsi, brava a rompere la linea, cross fantastico di Orsi per Lana Cleland. Sul punto di battuta. Il cross di Jane è buono per il secondo palmo, colpo di testa e Settinia dice di no. Filangeri, che con la testa ha salvato il Sassuolo, con la testa è andata vicino al gol del 3-1. Sassuolo che va segnato solamente un gol con questo fondamentale prima di oggi. Fischiato in bocca per Ubaldi, che dice che basta così. Il Sassuolo trova la sua prima vittoria in campionato, battendo 2-1 il Pomigliano in una partita che nel secondo tempo si è accesa.